Questo gioco serve per imparare a lanciare e prendere la palla. In particolar modo andiamo a sviluppare la capacità coordinativa tra occhio e mano. Ok, iniziamo. Hai bisogno solo di una palla? Andiamo. Puoi stare inizialmente fermo sul posto. Sempre con due mani prendo la palla, lancio e la prendo. Bene con due mani, lancio verso il subfit e la prendo. Va. Ok, se questo diventa facile puoi iniziare a farlo camminando nello spazio. Lancio e prendo. Lancio e prendo. Ok, molto bene. Ora, per rendere un po' più difficile questo gioco, andremo. Lancio, patto le mani e prendo al volo. Lancio, patto le mani e prendo al volo. Anche questo puoi decidere se stare fermo oppure camminare. Ok, prova a continuare tu. Cerca di inventare anche nuove posizioni delle mani o delle braccia per riprendere in tempo la palla. Se vuoi imparare sempre a lanciare e prendere, ma in compagnia di un amico o della mamma, del papà o del fratello o sorella, puoi farlo comunque. Ti faccio vedere come. Allora, ti posizioni uno di fronte all'altro, sempre prendi la palla con due mani. Lancio con due mani e prendo con due mani. Vai, lancio e prendo. Ok, ora sempre lancio dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto. Vai. Ok, molto bene. Ora invece lanciamo dal lato, sempre in alto. Sempre due mani, eh? Ok, ora come prima, mettiamo il battito delle mani. Lancio, quando lancio devo battere le mani prima di prendere la palla. Ok? Pronto? Vai. Ok, molto bene.